ben ritrovati di nuovo su review in you oggi vado a recensire insieme a voi questi cucchiaini da pesca spoon marcati croc il nome dell'azienda può cambiare comunque vi lascio il link in descrizione qui sotto perché l'ho comprato in un prezzo veramente accessibile sui 10 euro e sono degli spoon che vanno bene per la trota per il luccio sia per la pesca in acqua dolce che in quella salata grammatura da 25 grammi quindi vanno benissimo anche per una canettina piccola come vedete alcuni hanno questo piumaggio adesso mi vado avvicinare che è davvero catturante anche per i bassi alcuni hanno queste striature questo un po più piccolo con una fascia sfumata in rosso questo lavoro è rosa e vi faccio vedere questi hanno addirittura dei puntini che sono veramente catturanti e come vedete ci hanno un lamo un singolo e il gancettino dove andare poi fare la vostra lenza diciamo e varia questi sono i colori come vedete variano per la forma e per la grammatura un prodotto veramente interessante per chi si avvicina al mondo della pesca e vuole spendere poco quindi un prodotto ovunque entry level stiamo parlando di spoon di marca però fanno sicuramente il loro lavoro se pescando appunto in laghetti o perché no magari anche al mare link in descrizione se avete domande non esitate a pormene